La curva del coronavirus è in calo in Veneto, dove la permanenza in fascia gialla e le aperture commerciali previste dalla nuova ordinanza possono indurre a facili entusiasmi. Ma non è così. Anzi, è proprio in questo momento che l'attenzione va mantenuta altissima. Lo ricorda il presidente Luca Zaia. Adesso tutti noi abbiamo la responsabilità di governare il processo. Perché voglio ricordare che se non evitiamo gli assembramenti, non è racconti 1.2, andare un po' più in su e beccarsi la zona arancione un attimo. È proprio dietro all'angolo. Poi non si venga a dire che era meglio la zona gialla, gialla plus, che qua, che là, che su e che giù. Zaia ricorda anche i timori della prima fase dell'epidemia. Guardate, nella prima fase avevamo tutti paura di morire. Lo possiamo dire questo, no? Le prossime settimane saranno quindi decisive per il superamento dell'emergenza. Anche perché a gennaio c'è il rischio che Covid si sovrapponga come diffusione all'influenza, con tutte le conseguenze del caso. E bisogna iniziare a pensare in prospettiva. È tornato a farsi vedere a ottobre. Non è una seconda fase. È ancora qui e continuerà a farsi vedere fino ad aprile.